Doppia sfida esterna domani, sabato 3 novembre, a Palermo per la pronissa Futsal, che freme all'idea di vincere anche questo match. Per i ragazzi sarebbe infatti la settima vittoria consecutiva che permetterebbe loro di allungare la distanza sulle altre squadre. Ricordiamo infatti che il Palermo calcia 5, è vero che è a corto di punti in classifica, però la scorsa settimana ha vinto il derby contro il Bagheria, ottenendo i primi tre punti. Comunque vada, i ragazzi hanno lavorato sodo. Il fischio d'inizio partita è previsto sabato alle 17.